Grazie per aver scelto la termocamera Testo 883. In questo video ti mostrerò come mettere in servizio per la prima volta la tua nuova termocamera. Cominciamo con la batteria ricaricabile. Apri il vano batterie che si trova alla base della termocamera. Inserisci la batteria fino in fondo. Chiudi e blocca lo sportello. Dopo aver inserito la batteria la termocamera si avvierà automaticamente. Per tutti gli usi futuri devi solo premere il pulsante ON. La termocamera ha un'interfaccia USB-C. Puoi usarla per caricare la batteria e trasferire le immagini sul tuo computer. Per caricare la batteria collegare il cavo USB in dotazione direttamente all'alimentatore. Ora vediamo come funziona. Puoi accedere ai vari menu sia toccando lo schermo sia usando il joystick. Quando si utilizza il joystick è possibile navigare su e giù, destra e sinistra, attraverso le singole voci di menu. Premendo il joystick o il tasto OK si conferma la selezione e si apre la rispettiva voce di menu. È possibile programmare il pulsante di selezione rapida a destra per accedere rapidamente a determinate funzioni per te importanti. Per farlo spostare il joystick verso destra per aprire il menu di selezione rapida, selezionare la funzione desiderata con il joystick e confermare. Il simbolo corrispondente sotto la scala dell'immagine termica mostra la funzione assegnata al pulsante di selezione rapida. Per richiamare la funzione appena selezionata, premere il pulsante di selezione rapida. Un consiglio, il pulsante escape a sinistra consente di annullare un'impostazione del menu in qualsiasi momento e di tornare alla visualizzazione delle misure. Non dimenticare, togli prima il copri obiettivo. Il prerequisito per valori di misura precisi è un'immagine termica ben focalizzata. A tal fine, Testo 883 ha una messa a fuoco manuale. Per mettere a fuoco, ruotare l'obiettivo. Per salvare un'immagine termica, premere il pulsante sull'impugnatura. Questo inizialmente congela l'immagine, così puoi controllare la messa a fuoco, il soggetto dell'immagine o registrare un commento vocale. Per salvare definitivamente, premere nuovamente. Per trasferire le immagini sul tuo computer puoi utilizzare la porta USB oppure l'app Testo Termography. Cerca il relativo video sul nostro canale. Per spegnere la termocamera, tengo semplicemente premuto il pulsante ON per due secondi. Ora sei pronto per usare la tua nuova termocamera. E se hai domande, sul nostro canale troverai molti altri video. Commenta, ti risponderemo subito.